Il mercato della Megabox Vallefoglia si infiamma ed entra nel vivo con due nuovi acquisti, Maya Alexis e Giulia Carraro. Sono loro i due nuovi volti che la squadra del presidente Angeli ha ufficializzato oggi in Viale Trieste, andando a rafforzare due reparti, quello del centrale e del palleggiatore, per cercare di ambire risultati importanti nella prossima stagione. Dello stesso parere, il coach Fabio Bonafede, che dopo la salvezza ottenuta lo scorso anno, vorrebbe fare quello step in più per ottenere una salvezza tranquilla e giocarsi un posto per i play-off. Due giocatrici di grande esperienza, di grande rilevanza tecnica, sono campionesse di Francia in carica e quindi due profili di alto livello. Alexis è addirittura impegnata in UNL e farà i mondiali, arriverà con noi solamente a fine ottobre, però siamo sicuri del suo valore ed è il profilo ideale per accogliere l'eredità di Geki. Per quanto riguarda Giulia Carraro, il progetto, anche per quello che è successo l'anno scorso, era quello di non avere una seconda palleggiatrice classica e quindi abbiamo scelto due profili che con grande intelligenza dovranno collaborare, perché sono due profili di alto livello entrambe, in grado entrambe di prendersi la responsabilità di guidare la squadra a pieno. A questi futuri invece? Non posso spoilerare niente, perché c'è una campagna di comunicazione che mi piace, che è all'altezza ed è molto professionale, però sicuramente quello che posso dire è che la squadra è al completo e quindi si ci può dedicare tranquillamente adesso al gioco delle presentazioni. Il progetto nasce dal fatto che quest'anno volevamo una base di ragazze intercambiabili, tutte con esperienza di A1, quindi per darci una base più ampia di scelta. Un po' un modello che hanno Conegliano, Novara, tutte queste grandi squadre che possono scegliere fra 15 giocatori. Noi non arriviamo a quello, però nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare quello che si poteva per raggiungere quel tipo di modello prestativo. Preparazione che inizierà dopo Ferragosto con l'obiettivo di partire bene sin dalla prima partita di campionato, che è fissata il 22 di ottobre. Tirà dopo Ferragosto la preparazione che riguarderà tutta la squadra. In realtà la preparazione atletica avrà una prima fase a livello individuale, dove le ragazze fin da fine luglio inizieranno un programma di atletizzazione che dovrà portarle già pronte a quando inizierà l'attività con la squadra.